I have a total love, I'll die and say that you were mine Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure93 Prima di farvi vedere il video, perché ovviamente io ho scritto uno stato su Facebook Domani alle 15 pubblicherò il mio video Il mio video che riguarda prima di tutto l'HDP VR60 Che ho qui, eccolo qui ragazzi Nuovo acquisto che ovviamente ho fatto per voi Volevo ritornare su YouTube e sono pronto a farlo E giustamente adesso l'unica cosa che mi manca ragazzi è il computer E niente raga, cosa devo dire? Solo questo Era per farvi un aggiornamento, domani alle 15 sono online con i V Giusto per farvi capire il mio sclero solito che avevo su questo gioco Saranno due belle partite, anzi più o meno Una e mezzo, mettiamola così E nada Bella ragazzi, ci vediamo domani Ah e comunque ragazzi, questa bestiolina rugisce alla grande Grazie a tutti